Nessun trasferimento a Roma. Resta a Milano l'inchiesta in cui il governatore della Lombardia, Roberto Maroni, è indagato assieme al capo della sua segreteria, Giacomo Ciriello, con l'accusa di aver esercitato pressioni per far ottenere a due sue ex collaboratrici contratti di consulenza rispettivamente con Expo e Eupolis. Lo ha deciso il procuratore generale della Cassazione, al quale alla fine di luglio il difensore di Maroni, l'avvocato Domenico Aiello, aveva chiesto la trasmissione degli atti dell'indagine dalla procura del capoluogo Lombardo a quella della capitale, segnalando l'incompetenza territoriale dei magistrati milanesi a indagare. Il procuratore generale ha invece ritenuto che l'inchiesta debba rimanere a Milano, luogo dove sarebbe stato commesso il reato ipotizzato. Maroni è accusato di induzione in debita in relazione ad un contratto di collaborazione per due anni con Expo 2015 SPA, ottenuto da Maria Grazia Paturzo, lei però non indagata. Per questo capitolo dell'indagine è finito sotto inchiesta anche il direttore generale di Expo, Cristian Malangone. Per l'altro contratto, assegnata a Mara Carluccio da Eupolis, ente di ricerca della regione Lombardia, l'ipotesi contestata al presidente Lombardo è invece stata modificata da induzione in debita inturbata libertà del procedimento di scelta del contraente. In questa tranche dell'indagine sono finiti sotto inchiesta anche la stessa Carluccio e il manager di Eupolis, Alberto Brugnoli. Ciriello risponde invece solo di induzione in debita. Per gli inquirenti avrebbe esercitato le pressioni sui funzionari delle due società per conto del presidente leghista Maroni. Lo scorso 24 luglio l'inchiesta, sempre su richiesta del legale, era stata trasferita da Busto Arsizio nel Varesotto a Milano e il procuratore della Repubblica, Edmondo Brutti Liberati, l'ha assegnata al pubblico ministero Eugenio Fusco, già titolare del fascicolo, quando era in servizio a Busto.